Come era prevedibile dopo quello che è successo ieri, cioè le accuse di stupro nei confronti di Sean Roden per quello che sarebbe successo nell'ottobre 2018, quindi un mese dopo il Mr. Olimpia, dopo la sua vittoria al Mr. Olimpia, oggi c'è stata una dichiarazione ufficiale del Mr. Olimpia che nega praticamente la partecipazione di Sean Roden a questo Mr. Olimpia del 2019 e anche ai prossimi Mr. Olimpia e dice proprio che questo annuncio arriva in seguito ai recenti sviluppi che hanno portato al mandato nei confronti di Sean Roden, quindi era abbastanza prevedibile. E poi dice questo comunicato che oltre a revocare la sua possibilità di partecipare al Mr. Olimpia, l'American Media, che diciamo che è l'agenzia che gestisce il Mr. Olimpia, ha anche annunciato che sospenderà qualsiasi documentazione di attività di Sean Roden nei suoi media e include anche Massimo Fitness e Flex, che quindi sono i giornali più importanti legati al Mr. Olimpia e all'IFPB. Quindi era abbastanza prevedibile, ne stavo parlando ieri con qualcuno, che l'IFPB prendesse distanze da Sean perché se pensiamo che l'IFPB prende distanze da chi gareggia in federazioni diverse dall'IFPB e quindi li banna dalla partecipazione a vita ai loro contest, prende distanze da chi parla apertamente di serogli. Figuriamoci se in un mondo in cui ormai c'è il me too anche quando io cago e tutte queste cose qua, figuriamoci se il campione del Mr. Olimpia viene accusato di stupro se l'IFPB non avrebbe preso le distanze perché ovviamente non vuole che il marchio, il brand della federazione di bodybuilding più importante del mondo venga associato e infangato da un'accusa diffamante nei confronti dell'atleta di punta per giunta. Quindi non mi sorprende questa cosa, mi dispiace molto perché come ho detto ieri ci sono troppe accuse di stupro basate spesso sul niente, dopo mesi, mesi e mesi. Mi dispiace molto per Sean, io penso che sia innocente, non mi sembra persona che fa una cosa del genere, probabilmente magari con quella tipa ci ha scopato senza stuperarla secondo me e quindi adesso dovrà mollare Mr. Olimpia, non sapremo mai se sarebbe riuscito a ripetersi, non sapremo mai se sarebbe riuscito a confermare quello che ha fatto vedere l'anno scorso e questo è un bel dispiacere perché questo Mr. Olimpia senza Sean, senza Big Ramy probabilmente, senza Philips probabilmente lascia molte porte aperte. Quindi vedremo a questo punto sicuramente un nuovo Mr. Olimpia e sarà immagino Brandon Curry o Bonac o Rolly Winkler, anche se come ho detto Rolly Winkler non mi piace, però questo non è il video per parlare di queste cose, magari ne parlerò in un altro video prossimamente. Quindi, dispiace per Sean perché non mi sembra una persona capace di fare una cosa del genere, però chiaramente adesso dovrà imbarcarsi in procedure legali, spese legali, avvocati, processi e cose del genere che oltre a distoglio della partecipazione al Mr. Olimpia se questo sarebbe stato possibile. Adesso non ha neanche questo pensiero, poverino, perché gli hanno proprio detto che non può partecipare. Quindi, un grande dispiacere, non sapremo mai come sarebbe andata. E lascia il Mr. Olimpia senza il suo campione, forse una delle prime volte nella storia, sicuramente non è la prima volta, però raramente è successo che il campione non si presentasse per difendere il titolo. Probabilmente è successo con Arnold nel 76, quando si era appena ritirato. E forse mai altre volte, adesso non mi ricordo, bisogna per controllare, però un Mr. Olimpia senza tre nomi grossi, questi Big Rami, Sean Roden, Philit, lascia davvero molte porte aperte. Ci sarà molta poca competizione, anche perché secondo me il livello della competizione è scarso. Ci sono solo Brandon Curry e Bonac, chissà, possono giocare, secondo me, perché Rolly non mi piace né abbastanza completo. Poi magari lo vince lui il Mr. Olimpia, però io sono sempre la mia opinione che non è un bodybuilder completo. Quindi vediamo se ci saranno altri aggiornamenti, però questa è una brutta botta per Sean, una brutta botta per tutti i suoi investimenti, per i soldi che poteva farsi. È una carriera stroncata praticamente, non dico sul nascere, perché ha 44 anni mi pare, però non poteva farsi qualche soldo in più ancora. E tra l'altro Generation Iron stava facendo un film su di lui, quindi vedremo anche come si comporteranno loro dopo questa bella inculata buona. Grazie a tutti.